Agromafie sono 12 le misure di custodia cautelare nelle province di Enna, Catania e Messina eseguite all'alba dai finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta nei confronti di altrettanti soggetti indagati in concorso e a vario titolo di furto e estorsione aggravata dal metodo mafioso. La custodia cautelare è stata disposta per 9 degli indagati in carcere e per 3 ai domiciliari. Il provvedimento, emesso dal giudice delle indagini preliminari di Caltanissetta su richiesta della direzione distrittuale antimafia Nissena arriva al termine di indagini complesse condotte dal gruppo Investigazione Criminalità Organizzata e dai finanzieri della sezione di polizia giudiziaria Nissena. Proprio le indagini avrebbero appurato le presunte interferenze sulle aziende confiscate a seguito di un procedimento di prevenzione ai due fratelli imprenditori agricoli che operano sul territorio di Enna. I due imprenditori avrebbero interferito in modo incisivo sulle dinamiche aziendali a più livelli attraverso dipendenti di loro fiducia che avrebbero dato seguito alle loro direttive in contrasto con quelle dell'amministratore giudiziario. Secondo le indagini sarebbero arrivati anche alla presunta sottrazione di beni strumentali e l'attività agricola per fini personali. Così oltre ai ricorrenti furti sarebbero state accertate diverse forme di intimidazione che sarebbero avvenute con le classiche modalità proprie di chi esercita una capacità di intimidazione mafiosa sottolineano gli inquirenti nei confronti dei lavoratori assunti dall'amministrazione giudiziaria costretti a interrompere il rapporto di lavoro con minacce attuate dai fiancheggiatori dei due imprenditori. Questo per assicurare la presenza esclusiva di personale di comprovata fedeltà all'interno delle imprese poste sotto sequestro, cosa che secondo gli inquirenti avrebbe garantito il controllo costante su quanto accadeva nelle diverse attività aziendali confiscate.